Oggi parliamo di teatro e lo facciamo dal Teatro Alfieri di Torino per il musical della Febbre del Sabato Sera. Francesco, introduciamo per i due, tre, uno, mezzo che non sanno di cosa si tratta, che cos'è? Beh, la Febbre del Sabato Sera è un musical che è nato nel 77-78 e che rivive un po' tutti quegli anni della disco music con le canzoni dei Bee Gees, dove il protagonista è Tony Manero, che sono io. Poi c'è Stefani Mangano, che è qui la Anna Foria, l'attrice più social della terra, e Arianna Galletti nel ruolo di Annette. e ripercorriamo quella che è la storia di questo gruppo di ragazzi di vent'anni che frequentano le discoteche e tante varie cose che la gente verrà a vedere e quindi scoprirà. Iniziamo a presentarvi i personaggi. Arianna, tu chi sei? Raccontaci un po' del tuo personaggio, raccontaci qualcosa. Allora, io interpreto Annette e sono una ragazza follemente innamorata di Tony, probabilmente amica sua dall'infanzia, almeno questo è quello che io penso. Il bello della diretta. Salve a tutti. Nel film mi sono fatta io, siamo amici dell'infanzia e sono perdutamente innamorata di lui, ma lui purtroppo mi rifiude e mi respinge e questo mi fa disperare e mi fa avere un'evoluzione da ragazza dolce, innocente, innamorata a donna ferita, che vabbè poi vedrete cosa succede. Non diciamo l'assassino chi è, perché se no poi non c'è gusto. L'assassino c'è sempre. L'assassino sono io infatti, che sono Stefani nel musical e infatti sono quella che fa innamorare lui. L'assassino appunto. E questa ragazza ha un po' snob, che non fa altro che appunto far innamorare questo bel Tony, ma in realtà lei vuole soltanto vincere la gara. E infatti alla fine loro restano amici. Basta. Ma è facile innamorarsi di Anna, scusa. Sì. No, allora, a parte gli scherzi, nello spettacolo lei è fantastica. Nella vita, no scherzo. No, lei nello spettacolo e nella vita è una persona fantastica. Infatti abbiamo trovato un bel feeling durante gli spettacoli e i due personaggi si stanno evolvendo in una maniera incredibile. Infatti siamo molto contenti di questo. Anche perché Anna l'anno scorso c'era già nel musical, tu sei subentrato quest'anno e come ti sei trovato? Ma io mi sono trovato benissimo perché la compagnia mi ha accolto veramente a braccia aperte, sono stati tutti molto disponibili. È stato anche lui molto bravo comunque ad inserirsi in un gruppo già formato che non è assolutamente facile, insomma. Quindi, bravo. No, sono stato molto contento perché tutta la compagnia mi ha accolto nella maniera migliore del mondo e ancora ad oggi siamo tutti grandi amici e colleghi, quindi sono molto contento. Come ti sei preparato a fare Toni Manero? Perché paragonano poi a Giuntravolta. Tu come ti sei preparato? Hai avuto un po' la paura di somigliargli troppo, di scimmiottarlo? In realtà questo con Claudio Insegno è una cosa che abbiamo affrontato. Abbiamo sicuramente cercato di non scimmiottare Giuntravolta, anche perché è impossibile. Infatti a volte persone che sono venute a vederle vogliono rivedere Giuntravolta, ma rivedere Giuntravolta è impossibile anche perché sarebbe un tale quale show. Voglio dire, non possiamo fare l'imitazione di Giuntravolta. Con Claudio abbiamo ricercato il personaggio di Toni Manero, abbiamo cercato di spogliarlo, di renderlo sincero e di cercare di far rivivere le sensazioni di quell'epoca, ma per quanto riguarda me riguarda tutti i personaggi. Le vere sensazioni di quell'epoca è riprodurle in teatro. Ricordiamo sempre che il teatro è diverso dal cinema. Non puoi vedere una cosa cinematografica in teatro, comunque ha bisogno di un riadattamento. Quello, quello assolutamente. Ma la camminata di Toni? La camminata di Toni sembra facile, ma non lo è per nulla. Soprattutto quando abbiamo lavorato in teatri molto piccoli. Anche perché con tre passi ero arrivato e facevo fatica a fare una camminata con dei passettini piccoli. Ma io dico sempre una cosa. Io quando stavo provando a Milano, io andavo da casa a teatro, andavo con Stenelive dei Bigis nelle cuffie e cercavo di riprodurre sotto la metropolitana e cose varie la camminata che facevano. Oh, vero. Ma chi è artista è deficiente. Se non lo sai non puoi fare questo lavoro. È normale. Tanto poi Milano è una città internazionale e cosmopolita, anche se uno mi guardava male, che me frega, chi me conosce. Tante. Quali sono, Arianna, le canzoni che troviamo in questo spettacolo? Che musica troviamo? Allora, troviamo praticamente tutte le hit dei Bigis che hanno fatto la storia. Quindi abbiamo Disco Inferno, Night Fever, You Should Be Dancing, How Deep Is Your Love. Insomma, delle canzoni che veramente hanno fatto la storia della musica e del cinema internazionale. È sempre una grande emozione interpretarle ogni sera. Anna, perché piace questo musical? Beh, questo musical è appunto partendo dalle hit che sono praticamente famosissime. Le conoscono ormai grandi, piccini, insomma tutti. E poi comunque un cult. È un film che ha appassionato, ha creato una generazione, ha appassionato veramente ogni singola persona. Anch'io che comunque sono piccola, lo conosco benissimo. Lo conosco veramente da quando ero piccina. Quindi perché tutti si sono innamorati di questo film. Ragazzi, grazie di essere stati con noi. Tra poco andate in scena, quindi vi abbandono. In bocca al lupo. Un DJ molto particolare, l'Odyssey 2001. In particolare in che senso? Allora, adesso vi spiego. Mani sulla testa? Ah, certo. Poi, vediamo se hai imparato. Questo passo è un passo di danza classica importantissimo, famosissimo, che si chiama Abajur. Che è questo. Con faccia un po' dubbiosa. Bello, eh? E non gli faccio mettere la parruca perché, poverino, appena finito lo spettacolo ed è stanco. È un personaggio molto particolare il tuo. Sì, è un personaggio che viene dalla mia psicopatia e da quella di Claudio Insegno, che mi ha detto a un certo punto, vabbè, Giangio fai tu. Dire Giangio fai tu per me è un problema, nel senso che io faccio sempre tantissimo, quindi è stato un disastro togliere tutte le cose che mi sono inventato, però è stato molto divertente l'allestimento di questo personaggio. È un personaggio sopra le righe, è un personaggio che nella vita di giorno fa l'insegnante di danza e inventa questi passi di danza orribili. E la di sera fa il DJ, appunto, nel D62001 ed è, diciamo, il punto di riferimento di Tony Manero per quanto riguarda divertimento e way of living, no? Un po' così, l'età in inglese è fare il figo, ovviamente. Quanto è importante la musica in quegli anni? Quanto era importante per il gruppo? Beh, credo che la musica negli anni 70-80 sia stata proprio la migliore amica degli adolescenti di quell'epoca, perché comunque anche nei film, no? Che raccontano un po' quegli anni, si vedono questi ragazzi che si chiudono in stanza e vivono il loro mondo, che è una cosa che tendenzialmente succede anche adesso, ma in maniera molto minore, secondo me. e anche perché è nata la musica pop in quegli anni, no? Si è slegati da quello che era l'anno 60, che già cominciava a svecchiarsi dall'opera lirica e tutto quanto, dallo swing e dal jazz per andare verso una musica finalmente pop. È stata un po' la rivoluzione dei ragazzi, insomma. È stata una musica importantissima. I Bee Gees hanno fatto, ovviamente, strage di cuori. Un bel musical con tanta musica, però quali sono i temi che si leggono sotto in questo musical? Beh, sembra un musical, come dire, superficiale. In realtà ce ne sono tanti, a prescindere dal dramma di un adolescente che, insomma, per il quale magari il ciuffo e la camicia fuori posto può essere un problema enorme, cosa che capisco perfettamente. E, no, sicuramente c'è questo grande tema della lotta razziale, no? Che in questo musical è stata anche un po' alleggerita in queste versioni rispetto ad altre versioni della Febbre Sabato Sera. La differenza tra portoricani, tra afroamericani e tra italoamericani. e delle bande che non possono unirsi, non possono entrare, se non in conflitto. E questa cosa viene messa in luce da Tony Manero, che a un certo punto dice ma senti, io non ci sto perché devo vincere la gara quando non sono chiaramente più bravo e dà il suo premio ai latini. È un segno di un ragazzo che vive quegli anni in maniera più, come dire, aperta. Ed è una, secondo me, è una bella cosa, insomma, che potrebbe essere tradotta, traslata tranquillamente nei giorni nostri, anzi. Sì, decisamente attuale ed è un bel messaggio da lanciare. Quali sono le vostre prossime tappe? Avete terminato con l'Alfieri o dette ancora in giro per l'Italia? Andremo in giro fino a fine gennaio. Adesso ci aspetta uno dei teatri più creatori d'ansia del mondo, che è il Teatro Ariston di Sanremo. Ed è la prima volta che ci vado, tra l'altro. In tutti gli anni di tornero non sono mai andato. E poi saremo al Verde di Firenze, e poi a Bolzano, e poi, non mi ricordo, quindi sorriderò. Vabbè, comunque andate sulla pagina Facebook degli attori, comunque, della Febbre del Sabato Sera, e troveremo tutte le date. Loro vi aggiornano quando cambiano naturalmente i paesi. E guardate i miei video con la Dangi, vi prego, che se volete godere la nostra stupidità, sono perfettamente in linea con lo spettacolo. Quindi mi raccomando. Gianluca, grazie tanto. Grazie a voi. Ciao. Io intanto ringrazio e saluto anche gli amici che ci seguono dal web da donningamba.com e i telespettatori di GRP. Ciao.